Siamo qui a Rocceletti di Borgia questa sera per la non edizione della festa che tradizionalmente ogni anno organizza l'associazione Il Piraino, un'associazione che è una realtà del nostro territorio a cui va il mio più sentito ringraziamento per quello che fa ogni anno, non solo con questa manifestazione bellissima ma anche in altre occasioni, ad esempio quest'estate ha partecipato al carnevale estivo a Soverato portando in alto il nome del comune di Borgia, quindi a loro, al presidente Salvatore Posella va il mio più sentito ringraziamento e spero che, anzi sono sicura vedendo la gente che questa è stata una bella serata, una serata che, come dicevo, si ripete ogni anno, è una tradizione soprattutto per la frazione di Roccelletta e speriamo che possano continuare negli anni andando sempre più in alto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!